Non pagate nessuna multa della polizia, non pagatela, non abbiate paura. L'invito alla ribellione dal pulpito di questa chiesa alla periferia di Piacenza contro ogni divieto, messa della domenica aperta a una ventina di fedeli e poi durante l'omelia le parole di Don Pietro Cesena. Perché quello che ci stanno facendo di fronte all'impedimento di venire a messa è anticostituzionale. Adesso c'è la polizia. Sì, aspettiamo. Gli agenti di polizia che ieri in borghese attendevano all'esterno della chiesa oggi sono tornati per multare il parroco 400 euro. Io rispondo a quello che è il mio essere prete e stiamo pensando al dramma psicologico della gente che in questo momento sta cominciando ad andare fuori di testa. Ci sono stati più di 700 morti qui a Piacenza. Certo, ma mica perché sono venuti a messa. Piacenza è una delle province più colpite d'Italia. Numero di contagi e morti impressionante, come ricorda la stessa Diocesi che in una nota ha invitato i preti a rispettare le misure di sicurezza. Se qualcuno ha qualcosa da recriminare basterebbe fare un giro nelle nostre terapie intensive e quindi magari si cambierebbe anche idea. Lei ha invitato a non pagare le multe, adesso la sua la pagherà. No, no, ma piano un attimo, io l'ho invitato a non pagare le multe perché quella gente che era in chiesa non dovete pagarla, piuttosto la pago io. La sua la pagherà? No, voglio dimostrare la libertà religiosa e il diritto che ha la gente di ricevere l'eucarestia.